a sei fa sta la pasta se abbiamo la pasta e passano la pasta o la pasta oggi siamo qui riuniti sul canale cuordicioccolato.it siamo milioni sparsi in tutto il mondo per manifestare contro il maltrattamento della pasta oggi qui diciamo basta al maltrattamento della pasta ciao a tutti parte gli scherzi mentre facevo la spesa al supermercato ho trovato questi fantastici spaghetti in scatola faccio anche fatica a dirlo loro le chiamano spaghetti in salsa ricca quindi sarà una salsa spettacolare addirittura ogni scatola contiene due pomodori allora adesso leggiamo le istruzioni e andiamo a fare la degustazione istruzioni per la cottura allora sul piano cottura o al microonde che facciamo dai facciamo al microonde così proprio andiamo a toccare il fondo per il microonde dicono versare il contenuto del barattolo dentro un contenitore per microonde coprire cuocere un minuto a mille watt aprire il contenitore dare una rimescolata e poi cuocere per un altro minuto sempre a mille watt proviamo l'alto star rating 3.5 che significa qualità di questo prodotto 3.5 su 5 posto sia di questo prodotto 3.5 sui da questa non è proprio un po' che è che è un po' che è che è solo come on come on dai sono ragazzi come se va no comment la pasta praticamente si scioglie in bocca e il sugo è bello bello dolce e leggermente acidulo non so come fa ad essere sia dolce che acidulo bene ci tengo a dire che per questo video nessuno della Nuova Zelanda è stato ferito gravemente è stato maltrattato ma non ferito se volete sostenere la causa Save the Pasta potete farlo o acquistando i prodotti e diffondendo questo video o facendo una donazione per la causa Save the Pasta nel link che trovate sotto la descrizione del video utilizzeremo questi soldi contro tutte le compagnie mondiali che continuano a maltrattare la pasta grazie a tutti